Il progetto prevede il ripascimento fino alla spiaggia di Santa Teresa, in pratica una lunga barriera per proteggere il litorale del capoluogo e realizzare spiagge più grandi che potrebbero accogliere migliaia di persone in più, anche turisti che con nuovi posti letto in città potrebbero arrivare in numero maggiore grazie pure ai nuovi collegamenti aerei. I lavori di ripascimento che erano in corso fino alla scorsa primavera sul lungomare di Torrione sono stati sospesi in questo periodo estivo e riprenderanno a fine settembre. Resta è il problema della qualità del mare che varia in base anche ai giochi delle correnti, a volte limpido, altre volte sporco e maleodorante. La spiaggia è cresciuta come vedete grazie al ripascimento voluto dall'amministrazione comunale e dal presidente De Luca e questo ripascimento continuerà. Aumentiamo gli spazi per la balneazione, va detto anche per inciso che oggi il mare è particolarmente pulito grazie ad un'abbrezza che si è elevata che significa che ci sono delle situazioni in cui per motivi meteorologici si ha un mare non propriamente specchiato. Quando ci sono le condizioni giuste il mare è pulitissimo. Cioè in riferimento al ripascimento finito il periodo estivo riprenderanno i lavori che porteranno poi ad allungare la spiaggia? Sì sì sì, il programma seguirà il suo ritmo e i suoi progetti, i suoi programmi e questa che vedete alle nostre spalle sarà il modello per il resto del nostro ritorale fino ad arrivare alla spiaggia di Santa Teresa il cui solarium è stato ripreso in corso di definitiva realizzazione e il reselling del solarium per la gioia dei miei concittadini.